Allegri dice che praticamente ce l'hanno regalata loro la partita. Allegri dice che dopo i primi minuti hanno perso l'approccio con la gara e che ce l'hanno regalata loro. Ora io credo che molti tifosi della Juventus, quasi tutti, siano stati estremamente sportivi e obiettivi e onesti nel riconoscere la superiorità del Milan sabato. Ecco, se lo facesse anche Allegri potrebbe essere il primo passo per riprendere il filo del discorso.